Per tre giorni su un filo d'acciaio di 70 metri di lunghezza e a 50 metri dal suolo senza alcuna protezione. L'impresa è stata compiuta a Changsha, città della Cina centrale, da un uomo che si è esibito in acrobatiche performance. Per dormire aveva un sacco a pelo montato sul filo. È rimasto per 20 ore senza mangiare.